Musica Quando sono arrivato in questa parrocchia un anno e qualche cosa, un anno e mesi, ho visto questo terreno che era vuoto, non c'era niente e già l'ho proposto al primo consiglio pastorale di fare questo campo sportivo per i ragazzi e anche il campo di bocce e finalmente dopo un anno per la mia capabilità si è realizzato perché i ragazzi hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di sentirsi a casa propria. Stiamo cercando di raccogliere le loro idee e di vedere in base, insieme alle loro creatività, mettere su l'oratorio e soffrire anche del campetto sportivo che è stato aperto da poco e speriamo che i ragazzi possano partecipare in questo oratorio. Con la tecnologia, con i ragazzi che vogliono stare fuori, incontrarsi tra di loro è molto difficile partecipare in chiesa, quindi speriamo che piano piano si possa allontanare questa realtà e farli avvicinare, farli capire, innamorare di Gesù. Il campo è stato realizzato con fonti della parrocchia. Avevamo un altro progetto, l'abbiamo accantonato quel progetto e abbiamo preferito con il consiglio pastorale e il consiglio economico di fare il campo sportivo. Grazie a tutti. Grazie.